weee non fare il magazzino muffito da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONEE DAIE weee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono XIUDER e ragazzi eh si ragazzi è proprio apparso siamo ai grandi magazzini e come già è successo per pinnacoli un rift beacon è apparso ragazzi quindi ultimi giorni dove potremmo goderci i nuovi grandi magazzini prima probabilmente del ritorno della ex corso commercio o forse di qualcosa che ancora non conosciamo non si è ancora attivato come vedete è semplicemente stato portato proprio qui e nelle prossime ore vedremo sicuramente le il fascio verso l'alto che preannuncerà la scomparsa di grandi magazzini io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live ciao 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 ciao